Oltre 8.000 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore diminuiscono gli attuali positivi ma aumentano i ricoverati. In Sicilia 885 nuovi casi e 34 morti. E nel comprensorio 318 i casi di covid ad Adrano diminuiti di 31 unità rispetto all'ultimo bollettino. A Biancavilla scoppia un focolaio di 15 casi in una casa di riposo. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci nel corso del programma televisivo di Rai 1, oggi è un altro giorno, ha fatto il punto dell'attuale situazione vissuta sull'isola in relazione all'emergenza covid. La zona rossa non è stata un capriccio, ha precisato, ma una necessità. In credulità a Caccamo per l'orribile morte di una 17enne sarebbe stata uccisa dal fidanzato di 19 anni. Il giovane è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario e accultamento di cadavere. Controlli dei carabinieri e della guardia di finanza nel fine settimana a Paternò, ma è polemica per la gara di nuoto tenutasi ieri mattina presso la piscina Giovanni Paolo II. A Paternò una delegazione di cittadini che hanno acquistato le 300 tombe di famiglia messe al bando dall'ente, ha incontrato questa mattina il sindaco. La gara per i lavori sarà in pubblicazione entro il 15 febbraio. Buonasera, benvenuti a questo nostro consueto spazio dedicato all'informazione. Oltre 8.000 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore diminuiscono gli attuali positivi, ma aumentano i ricoverati. In Sicilia 885 nuovi casi e 34 morti. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Meno casi ma anche meno tamponi così come ogni lunedì. 8.561 i nuovi contagi da coronavirus in Italia al netto di poco più, dicendo 43.000 tamponi processati tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 6%. 420 decessi con e per coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 85.881 da inizio pandemia. Alto il numero dei guariti nelle ultime 24 ore, 15.787 e questi due dati comportano un decremento degli attuali positivi di oltre 7.000 unità per un totale di 491.630. I soggetti asintomatici in isolamento domiciliare sono quasi 470.000. Aumentano i ricoveri in ospedale, in terapia intensiva, al netto di ingressi e uscite. Ci sono 21 malati intubati in più per un totale di 2.421, mentre in degenze ordinarie e posti letto in più sono 115 nelle ultime 24 ore per un totale di 21.424. In Sicilia la curva del contagio comincia a scendere. Oggi, così come ieri, i casi sono sotto quota 1.885 per la precisione, quelli di oggi su quasi 21.000 tamponi processati tra molecolari e rapidi con un tasso di positività del 4.2%. 34 i decessi nelle ultime 24 ore, 504 i guariti. Gli attuali positivi aumentano di 347 unità e adesso sono in tutto 48.000. Di questi, 1.666 hanno bisogno di cura ospedaliere. In terapia intensiva arrestano 227 malati intubati. In degenze ordinarie e ricoveri in più nelle ultime 24 ore sono 28 per un totale di 1.439. Palermo, la provincia più colpita con 386 nuovi casi, seguita da Catania con 208, aggrigendo 1 e Enna 2 le province con meno casi nelle ultime 24 ore. E nel comprensorio 318 i casi di Covid. Ad Adrano diminuiti di 31 unità rispetto all'ultimo bollettino. A Biancavilla scoppia un focolaio di 15 casi in una casa di riposo. Il sale e scendi sul fronte contagia ad Adrano ha referto meno 31 positivi nell'ultimo allineamento dei dati da parte dell'ASP, ma la sostanza resta sempre la stessa. Non si scende sotto i 300 casi. Precisamente sono 318 gli attuali positivi. La buona notizia arriva dal numero degli ospedalizzati che scendono di due unità e adesso sono in tutto 7. 904 invece i soggetti in isolamento fiduciaro in attesa del tampone molecolare. Aumentano i casi a Biancavilla dove è scoppiato un focolaio di 15 positivi nella casa di riposo. Attualmente a Biancavilla sono 165 i soggetti colpiti dall'infezione, di cui 5 ospedalizzati. Ed a proposito di ospedalizzati a Biancavilla a causa del Covid, migliorano sensibilmente le condizioni di padre Salvatore Verzi, parroco del Santissimo Salvatore, ricoverato a causa dell'infezione da quasi due settimane in degenza ordinaria al Garibaldi di Catania. Le condizioni del sacerdote biancavillese sono in costante miglioramento e a breve potrebbe essere dimesso dal nosocomio etneo e tornare a casa. 241 i casi a paternò, di cui 16 ospedalizzati, mentre sono 1.674 i soggetti in isolamento fiduciario. 124 i casi a Bronte, di cui 3 ospedalizzati a Bronte da inizio pandemia, sono stati 995 i brontesi colpiti dall'infezione. Di questi 829 guariti e 42 decessi. 134 i casi attivi a Belpasso, di cui 10 ospedalizzati. Il presidente della regione, Nello Musumeci, nel corso del programma televisivo di Rai 1, oggi e un altro giorno, ha fatto il punto dell'attuale situazione vissuta sull'isola in relazione all'emergenza Covid. La zona rossa non è stata un capriccio, ha precisato, ma una necessità. Sul fronte Covid-19, oggi il presidente della regione, Nello Musumeci, nel corso del programma televisivo di Rai 1, oggi e un altro giorno, ha tracciato un bilancio relativo all'attuale situazione vissuta sull'isola in relazione all'emergenza sanitaria. Tra i punti centrali affrontati nel corso del suo intervento, Musumeci ha ribadito fortemente come la zona rossa non sia stata un capriccio, bensì una necessità. Eravamo arrivati a 1970 contagiati e ad oltre 40 morti al giorno, ha dichiarato. Adesso siamo all'ultima settimana di zona rossa e per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, anche se il numero delle vittime rimane ancora alto. Sono fiducioso, ha affermato il presidente della regione, se il calo dovesse essere costante, potremmo anche revocare la zona rossa e tornare a respirare nella zona arancione. In merito alla questione legata ai vaccini, tema questo molto importante che desta non poca preoccupazione, secondo Musumeci si rivela essenziale sollecitare l'Unione Europea per pretendere il rispetto dei contratti. Abbiamo tre sedi in Italia della Pfizer, ha dichiarato. A mali estremi potremmo requisire parte della produzione, si parla di tutela del diritto alla vita, la strada della procedura legale non è detto che sia rapida. E infine, per quello che concerne i cosiddetti furbetti del vaccino anti-Covid, il presidente della regione siciliana ha precisato che a curare le indagini sia la magistratura e che al contempo siano stati già avviati degli accertamenti. Disposti infatti dall'assessore alla salute Ruggero Razza gli accertamenti in due casi. Se le notizie di stampa dovessero risultare fondate, ha affermato Musumeci, saranno individuate le responsabilità e se gli eventuali responsabili dovessero essere individuati tra il personale della regione, scatteranno le sanzioni. In ogni caso, ha concluso il presidente della regione, la nostra condanna non potrà che essere assoluta senza sé e senza ma. A Scordia è operativo da oggi il nuovo poliambulatorio distrettuale presso i locali dell'ex asilo nido comunale di via Luigi Capuana e già si lavora sul suo potenziamento. Questa mattina presso i locali della direzione generale dell'ASP di Catania il manager dell'azienda sanitaria Maurizio Lanza ha incontrato il sindaco di Scordia Francesco Barchitta per rinnovare la sinergia fra le due istituzioni e progettare l'incremento dei servizi. Presente il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell'ASP di Catania Antonino Rapisarde Giuseppe Di Bella e il commissario per l'emergenza Covid, Pino Liberti. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca nera. Incredulità a Caccamo per l'orribile morte di una 17enne. Sarebbe stata uccisa dal fidanzato di 19 anni. Il giovane è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ha creato sgomento in tutta Italia l'orribile fine di una ragazza trovata ieri mattina cadavere in un burrone a Caccamo nel Palermitano. Si chiamava Roberta Siracusa e aveva soli 17 anni. A fare trovare ai carabinieri il suo corpo privo di vita e parzialmente bruciato è stato colui che diceva di amarla, Pietro Morreale, il fidanzato di 19 anni. Su di lui gravano pesanti sospetti. Per la procura di Termini Merese, che sta coordinando le indagini, sarebbe stato lui ad ucciderla, pertanto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Come detto, è stato lo stesso ragazzo ad indicare gli inquirenti nel luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siracusa, ma poi sottoposto ad un lungo interrogatorio Morreale. Non ha più parlato e si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Si tenta di ricostruire dunque la triste vicenda e in particolare i dettagli della festa privata di sabato sera alla quale hanno partecipato i due fidanzati, assieme ad un gruppo di amici. Il magistrato ha sentito anche gli amici dei due per trovare elementi utili all'inghesta. Pare che la tragedia sia scaturita da un litigio per gelosia, ma non sono ancora chiare le dinamiche. Si parla anche di una tanica di benzina. Intanto a Caccamo è stato disposto il lutto cittadino sino al giorno dei funerali. In Baez c'è ancora incredulità per quanto accaduto. E come era prevedibile, il profilo Facebook di Pietro Morreale è stato ricoperto di insulti. In poche ore contro di lui il popolo dei social gli ha riversato la sua condanna con disprezzo. Controlli da parte dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel fine settimana a Paternò, ma è polemica per la gara di nuoto tenutasi ieri mattina presso la piscina. Giovanni Paolo II, sentiamo. Attività di controllo nel fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Paternò insieme ai militari della Compagnia e della Guardia di Finanza in piazza Caduti di Nassiria nel rispetto delle misure anti-Covid. Un intervento proprio a ridosso delle zone dove sono ubicate le due caserme delle Forze dell'Ordine ha prodotto qualche timido risultato. In dettaglio sono state elevate 12 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della divieto di spostamento. È stato denunciato un 17enne di Paternò con precedenti di pulizia per aver opposto resistenza al controllo ed essere stato sorpreso alla guida del proprio veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida con recidiva nel biegno. Altra denuncia per un 16enne di Paternò per aver anche lui opposto resistenza al controllo e per essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri. E ancora sono stati segnalati tre giovani paternesi perché in possesso di otto dosi per complessivi 12 grammi di marijuana controllati, cinque esercizi commerciali contestate, dodici sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, sottoposti a sequestro due motoveicoli, ritirati quattro documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 49 punti di patente. Ma proprio sul fronte controlli è polemica per quanto accaduto ieri alla piscina comunale Giovanni Paolo II di Paternò se dedicare all'impianto. Si sono presentate tra le 200 e le 400 persone, tra nuotatori, i loro genitori e i preparatori, nonostante la regione sia in zona rossa. Si badi bene nulla di non consentito. Le gare, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio, sono consentite in quanto rientrano nelle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI, e del Comitato Italiano Paralimpico. Ciò che ha lasciato un'intera città estere fatta è il numero delle persone divise tra dentro e fuori l'impianto. Le foto parlano chiaro. Due bus e centinaia di auto in sosta a riempire il parcheggio davanti alla piscina. Numerosi genitori in assembramento sia nell'area del parcheggio sia davanti agli ingressi riservati alle vasche. Ci si domanda dunque, è giusto che centinaia di persone si spostino per una manifestazione sportiva? E i controlli, come hanno evidenziato ieri tanti cittadini, dove sono? La Zecca dello Stato ha deciso di dedicare alla Sicilia una delle 15 monete della collezione numismatica 2021 che riproduce il cannolo siciliano, il passito e il tempio della concordia della Valle dei Templi. Questo periodo di pandemia, ha dichiarato il Presidente Nello Musumeci, ha messo a dura prova due settori produttivi, come quello dell'enogastronomia e del turismo, strategici per l'economia dell'isola, ma riconoscimenti come questi devono spronarci a fare ancora di più e meglio affinché, passato l'incubo del Covid, la Sicilia possa tornare ad essere protagonista, ritagliandosi un ruolo di primo piano al centro del Mediterraneo. E cambiamo ancora una volta argomento. A paterno una delegazione dei cittadini, che hanno acquistato le 300 tombe di famiglia messe al bando dall'ente, ha incontrato questa mattina il Sindaco. La gara per i lavori sarà in pubblicazione entro il 15 febbraio. La questione tombe di famiglia torna al centro dell'attenzione. A paterno una delegazione dei componenti del Comitato Spontaneo di Cittadini, nato nei mesi scorsi per chiedere che fine è fatto l'intervento per la realizzazione di 300 tombe di famiglia messe a bando nel 2019 e per il quale 300 cittadini hanno pagato in un'unica soluzione circa 7.500 euro, si è presentata questa mattina al Comune per un confronto con il Sindaco Nino Naso. Un incontro chiarificatore al quale, oltre al Sindaco, erano presenti il Vice Sindaco Ezio Mannino, l'Assessore ai lavori pubblici Luigi Gulisano e il Dirigente dell'Ufficio ai lavori pubblici, l'Architetto Mimbo Benfatto, nel corso del quale è stato fatto il punto della situazione. L'amministrazione ha fatto chiarezza su tempi e interventi da porre in essere, a cominciare dal fatto che il progetto è pronto e con esso anche tutti gli atti burocratici che porteranno all'avvio dei lavori. Entro il prossimo 15 febbraio, come è stato evidenziato, verrà pubblicato il bando per far partire i lavori. La delegazione di cittadini presenti al confronto ha evidenziato di ritenersi soddisfatta per le rassicurazioni arrivate, i concreti impegni presi da parte dell'amministrazione. Forse la vicenda è arrivata finalmente al capolinea, portando a casa un risultato positivo. Io sono uno dei tanti partecipanti al bando fatto dal Comune per l'assegnazione di terreno per la costruzione delle tombe di famiglia. Io ho pagato quello che è stato chiesto dal Comune tutto in una volta nel mese di marzo del 2019. Ma c'è qualcuno ancora, prima di me, che ha pagato tutta questa somma tutto in una volta. Ancora stiamo aspettando risposte certe dall'amministrazione perché i primi contatti li abbiamo avuti nel mese di luglio e i primi di agosto. Siamo stati presenti anche a un Consiglio Comunale ma certezze ancora non ce ne sono. Si parlava che dovevano approvare il bilancio, il bilancio è stato approvato, però veramente come sta andando, com'è la situazione, ancora non lo sappiamo. Quindi per poter capire noi come ci possiamo muovere, oggi siamo qua convocati dietro nostra richiesta dal sindaco per poter avere la certezza del da farsi. È una cosa che si risolve in breve tempo? È una cosa che ancora andrà per le lunghe? Questo non lo sappiamo. Di certo che anche se la gara d'appalto viene subito espletata e i lavori proseguono con una certa celerità non è una cosa che da sera a mattina passerà ancora tempo. Quindi mi auguro che l'amministrazione oggi sia disponibile a darci delle risposte che sono certe e sicure perché noi siamo circa 300 cittadini che andremo a liberare, perché chi ha dei defunti in famiglia che stanno occupando o un posto vacante in confraternite in tombe di famiglia date in comodato d'uso ma andremo a liberare anche altri posti visto che in questo periodo c'è una carenza di loculi per le tumulazioni. Questa vicenda delle tombe di famiglia voi avete costituito anche un comitato di cittadini? L'incontro di oggi ha un'importanza fondamentale perché dopo aver approvato il bilancio preventivo l'amministrazione dovrà indire la gara d'appalto con un bando. Negli scorsi giorni abbiamo parlato con il sindaco Nino Naso abbiamo parlato con l'assessore Pulisano i quali ci hanno promesso che agli inizi di febbraio sarà obbligato questo bando per la gara d'appalto per cui ci aspettiamo che in tempi brevi poi inizieranno i lavori per l'assegnazione reale di queste bombe. E con questo servizio si conclude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto la nostra informazione e vi lascio alle previsioni medio. Buona serata.